Musica Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e la notizia di un tragico incidente stradale avvenuto attorno alle 11.30 lungo la strada che collega Servigliano a Curetta, nella Fermano, nello scontro tra un utilitario ed un furgone ha perso la vita una donna di 70 anni della zona. Il ragazzo trentenne alla guida del mezzo è ricoverato al pronto soccorso di fermo e le sue condizioni non sono preoccupanti sul posto carabinieri e polizia municipale. 16 persone sono indagate dalla procura di Ancona per attività di bracconaggio in area protetta nella fattispecie all'interno del parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Sono residenti nei comuni di Senigalli, Arcevia, Ostravetere, Barbara, Castellone di Suase e tre castelli. A sette di loro è contestata anche la detenzione di armi e munizioni non denunciate all'autorità di pubblica sicurezza. Un cacciatore è stato denunciato per detenzioni illegali di specie protette e particolarmente protette appartenenti alla fauna selvatica autoctona, sequestrate oltre 3.000 munizioni ed altre armi e trappole illecite. 6,5 kg di marijuana, 500 g di cocaina ed oltre 17.000 euro in contanti. Questo quanto sequestrato dai carabinieri di Osima ad un trentenne di origini albanesi che con il suo comportamento nella periferia della cittadina aveva insospettito i militari. È scattata la perquisizione personale, successivamente quella in due abitazioni di Tolentino e di Porto Sant'Elpidio. L'uomo, celibe ed artigiano, è stato trasferito al carcere di Fermo. Ed ora cambiamo argomento con il nostro primo servizio di oggi, in arrivo oltre 1.300.000 euro per la videosorveglianza. Vediamo. Per la videosorveglianza nei comuni delle Marche sono in arrivo 1.356.000 euro di fondi dell'ultimo bando. È solo un primo passo, fa sapere il Ministero dell'Interno, perché il Governo ha già stanziato altri 90 milioni previsti dal decreto sicurezza. Uno sforzo finanziario aggiuntivo che intende aumentare il numero di comuni coinvolti in tutta Italia. L'obiettivo, si legge nella nota, è migliorare il controllo del territorio con una particolare attenzione ai centri più piccoli. In provincia di Ancona arriveranno 22.570 euro, in quella di Ascoli Piceno oltre 696.000 euro, in quella di Fermo 114.000 euro, in quella di Macerata 329.184 euro ed in quella di Pesaro Urbino 193.396 euro. Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali, commenta il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al Fondo Sicurezza Urbana per i grandi centri. Ancora cronaca, un uomo si è tolto la vita questa mattina sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. È successo nella frazione Castello di Gualdo. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che, rientrata in casa, ha fatto la macabra scoperta. Immediati soccorsi, ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare. Disagia al traffico in mattinata lungo la superstrada 76 per un doppio incidente avvenuto in direzione Ancona tra Moglie e Castelbellino. L'arteria è stata chiusa per circa un'ora con uscita obbligatoria e transito sulla vecchia statale. Prima si è verificato uno scontro tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata. Poi, a causa della coda che si era formata, c'è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro mezzi. Non destano particolari preoccupazioni comunque le condizioni dei feriti. Storia di degrado e di solitudine al quartiere Baraccola di Ancona. I volontari della Croce Gialla, chiamati dai vicini che sentivano un cattivo odore provenire da un appartamento, si sono trovati davanti ad un uomo di 50 anni dal corpo scheletrico. In casa non c'erano né cibo né acqua né riscaldamento o energia elettrica. Uno dei volontari è andato in un supermercato vicino per comprare qualcosa da mangiare in modo da rifocillare l'uomo che è stato trasportato all'ospedale di Torrette per accertamenti. Sarà preso in carico dai servizi sociali del Comune. Abolire anche nella Regione Marche l'obbligo di presentare il certificato medico oltre ai 5 giorni di malattia per essere riammessi a scuola è la proposta di legge presentata dal Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi. Sentiamo. Ho presentato una proposta di legge per eliminare l'obbligo della presentazione del certificato medico agli studenti, ai ragazzi e ai bambini dopo 5 giorni di assenza da scuola. Era diventato un semplice dempimento di carattere burocratico. D'altro canto ormai la scienza si è evoluta, la norma era del 1967 ma sappiamo bene che l'infettività, la contaminazione avviene prevalentemente nella fase di incubazione, nella prima evoluzione della malattia e non nella fase finale, nella fase di recupero. Quindi questo obbligo, che era un obbligo meramente burocratico, si propone di eliminarlo e quindi semplificherà la vita alle famiglie e ai medici e ai pediatri che sono obbligati a fare il certificato per i ragazzi e i bambini che sono assenti da scuola. Questo ovviamente senza eliminare il livello di prevenzione. Sono già otto le regioni che hanno fatto questa scelta, credo e spero che questa norma venga approvata dal nostro Consiglio regionale delle Marche. Introduzione del ballottaggio nel sistema marchigiano per eleggere il Presidente della Giunta regionale al fine di evitare inciuci e permettere una scelta democratica per il Governo della Regione. Lo prevede una proposta di legge a firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che verrà presentata in prima commissione, sottoposta ai cittadini con banchetti informativi ed inserita sulla piattaforma Rousseau. L'abbazia di San Michele Arcangelo all'Amoli di Borgopace è il luogo del cuore delle Marche, secondo il censimento del FAI. Sentiamo i particolari. E' l'abbazia di San Michele Arcangelo all'Amoli di Borgopace, nel Monte Feltro, alle pendici dell'Appennino Umbro Marchigiano, presso il crinale di confine tra Marche, Umbria e Toscana, situato in un'area selvaggia ed incontaminata, il luogo del cuore più votato nelle Marche, con quasi 25.000 voti. Il censimento, voluto dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, per dare un futuro ai luoghi cari, ha avuto grandi riscontri, con oltre 2.200.000 voti a livello nazionale, in una gradatoria che vede in testa il Monte Pisano di Calci, davanti al fiume Oreto di Palermo, e dalle splendide Terme Liberti di Porretta, ora in stato di semiabbandono. Sei le località marchigiane che hanno ottenuto più di 2.000 voti e che si sono piazzate nei primi 200 posti. Oltre all'abbazia di Lamoli ci sono la chiesa di San Liberato a Monte Giorgio e l'oratorio dei Beati Becchetti, l'albero della vita a Fabriano, entrambi al 72esimo posto. La chiesa di Sant'Angelo Magno ad Ascoli Piceno, l'Acquedotto Pontificio di Loreto e il Parco archeologico di Forum Semproni a Fossombrone. Il monastero di Lamoli, nelle immagini, comprende la foresteria e la chiesa che conserva un ciclo di affreschi databile al XV secolo, oltre ad una piccola raccolta di arte sacra e manoscritti esposta nella cripta. Proprietà della cura, l'abbazia è accessibile e ben conservata, ma un'abbondante nevicata del 2012 ne ha indebolito la copertura. Far conoscere questo luogo, valorizzarlo e restaurarne il tetto è lo scopo che sin dalla scorsa edizione ha mosso il Comitato per la valorizzazione dell'abbazia benedettina di San Michele Arcangelo a segnalare il bene al censimento. Ed apriamo ora la pagina sportiva con il calcio. La gara tra Lecce e D'Ascoli, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B in programma lo scorso primo febbraio ed interrotta, lo ricorderete dopo pochi secondi a causa dell'infortunio di Manuel Scavone, verrà proseguita il 23 marzo con inizio alle ore 18. E' tornato a parlare Manuel Giandonato dopo l'espulsione subita con il Renate, le due giornate di squalifica che lo costringeranno anche a saltare il match di Bolzano di sabato. C'è chi mi ha detto che lo faccio apposta perché non mi importa della fermana, su questo tengo a precisare che non c'è nulla di più lontano dalla verità. Io tengo molto alla mia squadra, seppur dimostrandolo in maniera sbagliata alle volte, ma fino ad oggi ho cercato di dare il meglio delle mie possibilità per questi colori. Ho sposato questo progetto quest'estate con grande convinzione e spero di portarlo avanti il più a lungo possibile perché sto benissimo a fermo, ha dichiarato il centrocampista. Ed ora parliamo di ciclismo con la rubrica settimanale curata con la collaborazione di Umberto Martinelli. Domenica prossima la Continental San Gemini Trevigiani MG Capavisvega inscena il primo atto ufficiale del 2019, sette giorni prima del debutto stagionale su strada tra i professionisti alla Igueglia. La squadra, nata nella fermana Montapone in cui mantiene la sede ufficiale, fa passerella a Treviso nella sala consigliare del prestigioso Palazzo dei Trecenti in Piazza Indipendenza. Il porto il pidienze Paolo Totò recita il ruolo di battistrada quale primo dei corridori riconfermati, insieme al polivalente Michele Scartezini, Pistar, campione europeo, vici ridato, pluritricolore olimpionico e fresco reduce dalla vittoria in Coppa del Mondo quale membro del quartetto in seguitore azzurro. Con loro i sempre affidabili Dario Puccioni, Geremia Goffi, Nicolò Salvietti e Antonio Di Sante, il cui contributo alla crescita della scuderia è stato notevole nel 2018. Sette gli acquisti Fabio Mazzucco, Filippo Zanna, Riccardo Ciuccarelli, Marco Cecchini, Gianni Pugi, Nicola Graziato e Leonardo Bonifazio. Nel gruppo dei 13 credono fermamente e fortemente il presidente Demetrio Iommi, l'ammiraglio Maurizio Frizzo ed il team manager Angelo Baldini. Il progetto tutto italiano rimane tema identitario ed emblematico, intorno al quale ruota una densa serie di significati e messaggi. A beneficiarne sono principalmente i talenti nazionali, in particolar modo le promesse marchigiane, toscane e venete, per quel triangolo interregionale che è la prima figura simbolica del coeso gruppo. E sempre domenica, alle 16.30, verrà consegnato il premio Master Mastrucci, conferito all'Unitalsi di Senigallia per l'esemplare impegno etico e la profondità dell'attenzione rivolta agli altri. Nel ricordo di Pierluigi Mastrucci, complesso e inimitabile personaggio, che fu pellegrino dell'Unitalsi, volontario tra i terremotati, ciclista e direttore sportivo ed educatore. Nella cattedrale della stessa città sarà l'artista Costantino Castorio, co-creatore dell'iniziativa, a consegnare la propria opera premio a Stefania Magagnini, presidentessa dell'Unione Nazionale Italiana, trasporta ammalate all'Urde e santuari internazionali, sezione di Senigallia. Approfondimenti in giovedì ciclismo, TVRS canale 11 alle 22.30, venerdì sulle strade, TVRS Marche canale 111 alle 20.15. Motociclismo, si scaldano davvero i motori e Maverick Vignales in sella la Yamaha, il migliore nella lista dei tempi del secondo giorno di test della MotoGP in Malessia. Il pilota spagnolo è stato l'unico, con la sua M1, a sfondare il muro dell'1.59, scendendo ad 1.58.897. Più indietro Valentino Rossi, soltanto sesto, ad oltre 7 decimi di distanza. E vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 8 febbraio. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti. Una visita è d'obbligo per chi lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori, si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi, anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro, perché da sempre è dalla tua parte. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 8 febbraio. Al centro nuvolosità in aumento su Toscana, Umbria, Marche e Basso Lazio, anche con possibilità di piovaschi associati alternati comunque ad ampie schiarite soleggiate. Il tempo risulterà più stabile sul resto delle regioni. Terminiamo con uno sguardo alle temperature previste. I valori notturni saranno compresi tra meno 2 e 10 gradi, un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece valori fino a 12 gradi, sia al nord sia sulle regioni centrali. Punta invece di 16 gradi su quelle meridionali. E parliamo per un attimo di noi. Prima di chiudere, Davide Mazzanti, ospite del Vole di Spiker, l'allenatore della nazionale femminile protagonista su TVRS, domani venerdì alle 21.30 sul canale 11 e dalle 22.45 sul canale 11. Puntata speciale, quella andata in scena direttamente al palazzetto di Osimo, con intervista anche alla neo-arrivata della Lardini Filotrano, Laura Partenio. Tanti temi affrontati di pallavolo regionale e nazionale. Con questo è tutto. Grazie per la cortesa attenzione. A domani. Grazie a tutti. Grazie per la visione!